Ho già detto che io non partecipo alla corsa ad alzare il ditino ad autocandidarsi, altrimenti il PD diventa X-Factor e penso che per X-Factor bisogna andare in altri posti. A me piace parlare di idee, di proposte. Se c'è la voglia di cambiare radicalmente questo partito, io ci sono. Se invece c'è da fare la corsa X-Factor, la lascio a fare ad altri. Radicalmente, secondo lei, si potrebbe partire anche dal cambio del singolo? Questo è solo uno dei tanti punti, ma dobbiamo prima partire dalle idee. Lo dice anche la regola del congresso. C'è una disponibilità a collaborare con il PD e noi siamo qui, abbiamo le nostre idee. Italia Viva è già in giunta, quindi siamo assolutamente costruttivi e pronti a lavorare insieme per il bene di Firenze. Perché la mia preoccupazione è governare bene Firenze, portare avanti i nostri progetti. Se abbiamo vinto, e siamo stati tra i pochissimi in tutta Italia, anche per questo. Grazie.